E' una vera felicità servire gli altri come Gesù. È uno dei passaggi più significativi del discorso del Papa e membri dell'Associazione Cattolica Internazionale di Servizi per la Gioventù Femminile ricevuti in Vaticano. Francesco ricorda che la loro missione è un servizio alla vita e alla dignità della persona e che le giovani accompagnate necessitano di attenzione e ascolto, passaggi importanti per farle sentire amate da Dio e chiamate alla felicità. Allo stesso tempo però loro testimoniano le virtù essenziali della fraternità e della solidarietà e pertanto ci ricordano che siamo fragili e che dipendiamo da Dio e dagli altri. L'invito del Papa è di impegnarci nella rivoluzione della tenerezza mostrata da Gesù. È bello, sottolinea Francesco, essere i suoi discepoli missionari per consolare, illuminare, lenire, ascoltare, liberare e accompagnare. Possa la fraternità affermarsi tra voi per far giungere a buon fine la vostra missione al servizio dei piccoli per i quali Gesù ha un amore di predilezione.